Le Ersa ha annunciato oggi il ritrovamento di tre stampe antiche che compongono la carta dell'erboristeria datate 1931. Oltre al valore storico e grafico, la scoperta conferma il livello raggiunto dalla ricerca botanica del primo novecento. Maurizio Merbar. 90 piante aromatiche, medicinali e alimentari stampate a colori in cromolitografia su tre tavole da un metro per un metro e mezzo. Piante rappresentate nella loro fioritura per agevolare una rapida identificazione, tra di esse anche diverse specie velenose. Il ritrovamento è avvenuto casualmente e la dirigente Paola Coccolo, salita nella soffitta della sede goriziana dell'Ersa e incappata in alcuni documenti abbandonati fino ad arrivare alle antiche stampe. Lo studio della botanica e dell'erboristeria nel nostro territorio, in particolare nell'area del goriziano, nell'entroterra, trova le origini proprio nell'ambito dell'impero austro-ungarico, in quanto Maria Teresa d'Austria aveva proprio imposto ai contadini di coltivare il gelso per lo sviluppo della bacchicoltura. Quindi questo ritrovamento è una testimonianza di questa tradizione di erboristeria e di botanica. Sulla parte sinistra della cornice di una delle tavole appare lo scudo sabaudo, sulla destra invece il fascio littorio con la data, anno nono dell'era fascista, era il 1931. Sulle altre due stampe invece questi simboli sono stati poi coperti dall'aquila del Friuli. La tipografia è di Francesco Pellarini di San Daniele. Per corredare le stampe l'autore Giuseppe Pozzo predispose anche un libro di spiegazioni sulle varie specie e sul loro trattamento. Queste pubblicazioni diventavano il supporto didattico per quelle che erano chiamate le cattedre ambulanti. Le cattedre ambulanti erano delle sessioni didattiche organizzate nei paesi. Potevano essere organizzate nella canonica, ovvero presso le sedi comunali. Venivano radunati gli agricoltori e venivano spiegate la semina, la raccolta, l'essicazione, la distribuzione per poter realizzare un profitto dalla coltivazione.